Buongiorno a tutti voi telespettatori, mercoledì 26 ottobre, ben ritrovati al nostro consueto quotidiano appuntamento con l'informazione in diretta dal Veneto, il nostro Focus TG fino alle 13.30 in vostra compagnia per portare a casa vostra tutte le ultime notizie di cronaca ma anche per dare spazio come sempre e come d'abitudine all'attualità, alle nostre inchieste, ai nostri approfondimenti, alla voce dei cittadini. Ebbene fino alle 13.30 vi dicevo saremo in diretta anche con i nostri collegamenti live dalle varie province con i colleghi che racconteranno uno spaccato di cronaca di attualità in diretta in compagnia di ospiti di volta in volta chiaramente diversi. Adesso però dopo questa piccola introduzione come di consuetudine diamo spazio alla cronaca in questo primo blocco del nostro giornale e la notizia con cui apriamo questa edizione purtroppo è una notizia drammatica. Ci spostiamo a Spinea, due persone hanno perso la vita a distanza di poche ore una dall'altra. Un infermiere 38enne è morto in sella alla sua moto, un'anziana invece cadendo lungo l'argine. Era in sella la sua moto quando martedì mattina Salvatore Silvestre, infermiere 38enne, ha perso la vita lungo la camionabile a Spinea. All'altezza dell'incrocio con via Prati, per motivi ancora da chiarire, si è scontrato con un camion finendo a terra. L'impatto è stato violento. Quando sono giunti i soccorsi il 38enne era ancora vivo ma in gravi condizioni. L'ambulanza si è diretta all'ospedale All'Angelo ma la folle corsa nel tentativo di salvarlo non è stata sufficiente. Il ragazzo è morto poco dopo. Originario della provincia di Napoli, Silvestre abitava a Spinea. Da circa due anni lavorava all'ospedale civile di Venezia e al momento dell'incidente si stava dirigendo proprio al lavoro. Non vedendolo arrivare i colleghi si sono preoccupati cercando sue notizie. Poco più tardi da Mestre è arrivata la comunicazione della sua morte. Salvatore lascia la compagna Antonietta, anche lei originaria della campagna e impiegata in ambito sanitario. Un'altra persona ha perso la vita ieri a Spinea. Si tratta di Maria Rosa Crea, ultraottantenne caduta in acqua sul canale tra via Rimini e via Pastrengo, poco distante da casa sua e del figlio dove andava a passeggiare spesso con il cane. È uscita nel pomeriggio e camminando potrebbe essersi sporta un po' più del solito lungo il canale, quindi aver perso l'equilibrio scivolando in acqua. Forse ha battuto la testa e perso conoscenza. Quando è scattato l'allarme i soccorsi l'hanno raggiunta, non c'era più nulla da fare per poterla salvare. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. Ci spostiamo da Spinea a Padova, ancora cronaca, fiamme e un incendio di importanti proporzioni in un alloggio popolare del portello, evacuata l'intera palazzina. Incendio in via Santa Maria Inconio al portello a Padova, in fiamme il terrazzo di un'abitazione. A causa del denso fumo tutto lo stabile è stato completamente evacuato. Sul posto due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Padova. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L'incendio è divampato nel pomeriggio di martedì all'esterno di un'abitazione al piano terra. Il rogo, secondo le prime ipotesi, sarebbe partito da un elettrodomestico malfunzionante e avrebbe interessato solo il poggiolo dell'appartamento. Ma il denso fumo nero ha costretto in via precauzionale ad evacuare tutti i residenti del palazzo. Fortunatamente nessuno è rimasto intossicato. Lo stabile non ha subito danni e in tarda serata tutti i condomini sono rientrati nelle loro abitazioni. Restiamo in provincia di Padova. Raffica di furti, proprio nell'Alta Padovana, a tre baseleghe. Un'anziana era entrata nel mirino di una coppia di ladri. Un finto slancio d'affetto per raggirarla e derubarla. Ladri, senza scrupoli, sono entrati nell'abitazione di un'anziana a tre baseleghe. Una coppia di malviventi, approfittando del cancello aperto, sono entrati nel giardino e si sono avvicinati al portone d'ingresso e dopo aver parlato con l'anziana proprietaria di casa, l'hanno abbracciata e le hanno strappato la collana. La signora ha dato subito l'allarme fornendo un identikit della coppia di ladri. Tre baseleghe è stato solo uno dei tanti comuni dell'Alta Padovana, bersagliato dai furti in questa settimana. Molte le abitazioni svaliggiate a Galliera Veneta, San Giorgio in Bosco e San Pietro in Gu a Cittadella. Nei giorni della Fiera Franca, Raffica discuta rubati nelle vicinanze del patronato. Andiamo avanti con le notizie di Cronaca, 5 anni fa uccise il padre sparandogli un colpo di pistola alla nuca all'epoca dei fatti. Aveva solo 16 anni, tra qualche giorno sarà completamente libero, quindi superata la messa in prova i giudici hanno dichiarato estinto il reato. Aveva 16 anni e quel giorno non era andato a scuola perché aveva mal di pancia quando ha ucciso il padre, l'imprenditore Enrico Bogian di 52 anni, sparandogli un colpo alla nuca con il fucile sottratto a nonno nella villetta di Selvazano dentro. Era il 24 marzo 2017. Da allora il percorso è stato lungo per i giovani, adesso 22 anni, tanto che i giudici della Corte d'Appello minorile di Venezia hanno deciso, dopo il positivo superamento di tre anni di messa in prova, di dichiarare estinto il reato di omicidio. Un lungo percorso, quello compiuto dal giovane, prima nel carcere minorile di Treviso, poi in una comunità del centro Italia, che lo ha portato, secondo i periti che lo hanno esaminato, a essere valutato in modo positivo. Cancellato il reato di omicidio aggravato dalla parentela, come quelli legati alla detenzione dell'arma. Il giovane adesso vive a Roma, dove lavora. Nel frattempo ha completato gli studi e si sta riavvicinando alla famiglia. È stato solo uno scherzo, ha continuato a ripetere confessando il delitto agli inquirenti. La vita e la giustizia gli offrono una seconda occasione. Un altro incidente stradale, un grave incidente stradale ferita, una motociclista. Grave incidente stradale a Codevigo, nella zona artigianale. Lo schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì ha coinvolto un'auto guidata da un 75enne del posto e una moto Honda condotta da una sessantenne. A avere la peggio è stata proprio la motociclista. La donna è stata trasportata all'ospedale di Padova, dove si trova ancora in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. E adesso una vicenda che è diventata virale sui social, ne parlano tutti e quindi noi approfondiamo questa vicenda di cronaca perché torniamo a parlare di quanto accaduto a una professoressa di Rovigo con una pistola d'aria compressa. Le hanno sparato in classe durante la lezione. È accaduto in un istituto tecnico di Rovigo, già individuati i responsabili, tre studenti di una classe prima che sono stati immediatamente sospesi. La professoressa che spiega in cattedra, gli alunni che ascoltano, scene di una normale lezione se non fosse che all'improvviso qualcosa colpisce la docente alla testa. Pallini di gomma sparati da uno studente con una pistola ad aria compressa mentre un compagno riprende la scena con il cellulare e diffonde il video sui social poi pubblicato dalla voce di Rovigo. Come docenti più che allarmati siamo affranti dal punto di vista educativo perché i ragazzi non hanno percepito il disvalore del loro gesto, ha detto la dirigente dell'istituto di Rovigo nel quale si è verificato il fatto. Atto di stupidità secondo la dirigente dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo. La scuola ha individuato immediatamente i ragazzi coinvolti, quindi chi ha portato questo arnese, chi lo ha usato eccetera e sono stati già sanzionati proprio lunedì con una sospensione. Ovviamente sono state coinvolte immediatamente le famiglie e adesso come previsto dallo statuto degli studenti e delle studentesse sarà anche adottato oltre alla sospensione un percorso diciamo di rieducazione e di riflessione sui fatti. La preside ha presentato anche un'informativa alla questura che valuterà le eventuali misure da prendere nei confronti dei tre studenti. Io non voglio ovviamente ridimensionare la gravità del fatto però credo che la componente stupidità, la componente emulativa, la componente del riprendere quello che si fa, la bravata e sia molto forte. Restiamo nella cronaca ma voltiamo decisamente pagina, cambiamo decisamente tono perché parliamo di violenza sessuale. Ha toccato nelle parti intime una 24enne, lui un uomo cittadino del Marocco 31enne è stato immediatamente fermato e è accaduto a Pederoba. È sfuggito alla furia degli avventori di questa birreria, il 31enne cittadino del Marocco che poco prima aveva toccato nelle parti intime una 24enne. Tutto è accaduto qui in questo parcheggio nel retro del locale, la giovane 24enne è arrivata qui ed è stata raggiunta dal 31enne marocchino. Era l'alba di domenica, una serata come tante, quando ad un tratto è scoppiato il finimondo. Il 31enne straniero si è rifugiato nel bagno della birreria rincorso da un gruppetto di persone a scatenare alla reazione della gente le urla della vittima una 24enne che è stata molestata dall'uomo. Secondo alcune testimonianze l'aggressore avrebbe colpito con un pugno la ragazza che tentava di dimenarsi. La giovane ha lottato, ne è nata una colluttazione, i due sono finiti a terra, lei ha riportato ferite guaribili in 15 giorni, lui in 7. Io so che lei andava in cerca di lui qua nel parcheggio, poi dopo siamo venuti a sapere che l'era in bagno rinchiuso. Ha chiuso la porta per sfuggire alle ire della gente. Mi sono andato a rifugiare in bagno perché aveva paura, perché giustamente gli altri si erano incavolati della faccenda e volevano prenderlo al loro modo, fare le loro giustizie. La rabbia del sindaco Marco Turato. Mi spiace soprattutto per la ragazza che è stata aggredita in questo modo e torniamo al solito discorso che è l'ora di finirla, basta, ci vuole la certezza della pena con certi personaggi. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri intervenuti anche per calmare gli animi, ora il 31enne nordafricano, già noto alle forze dell'ordine, si trova agli arresti domiciliari. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco con tante altre notizie di cronaca e i nostri approfondimenti. A tra poco. 12.15 ben ritrovati in diretta con Focus Tg, continuiamo con le notizie di cronaca, ci spostiamo a Cittadella, aveva messo a segno una lunga serie di furti in diverse chiese, il settantenne è stato arrestato appunto a Cittadella dai carabinieri di Castelfranco Veneto. È stato pizzicato con le mani nel sacco, o meglio, nelle cassettine delle offerte della chiesa di San Bernardo a Cittadella, il settantenne originario di Potenza, ma da tempo residente nel Padovano, arrestato con l'accusa di furto aggravato dai carabinieri di Castelfranco Veneto ed ora ai domiciliari. L'anziano, utilizzando la classica tecnica del metro flessibile con applicato del nastro biadesivo a un'estremità, era riuscito a pescare 40 euro in banconote e monete dalle cassettine della chiesa, un abituai del furto secondo i militari, che ne stavano seguendo le mosse a cavallo tra le province di Treviso, Venezia e Padova. Si vantava sui social facendo vedere mazzette di denaro, quindi una grande disponibilità di soldi ed è stato arrestato dai carabinieri un 29enne accusato di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Così si pavoneggiava il 29enne residente nel Trevigiano, arrestato in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Mazzette con grosse somme di denaro, di vario taglio, che esibiva fiero e soddisfatto e poi postava sui social. Ma nel mirindo dell'uomo i carabinieri, che da tempo lo stavano tenendo sotto controllo, seguito e monitorato anche attraverso i suoi profili, venerdì nel tardo pomeriggio mentre si trovava in un parco giochi a Villorba è scattato il blitz dei carabinieri. Con ogni probabilità si stava cingendo di iniziare a smerciare lo stupefacente. Hanno deciso di intervenire e il soggetto ha posto resistenza cercando prima di disfarsi di un involucro, lanciandolo in una siepe e poi tentando la fuga, ma venendo immediatamente bloccato. Già conosciuto alle forze dell'ordine aveva messo in piedi una grossa e fiorenta attività di spaccio. Fra i suoi clienti anche i piccoli pusher che poi smerciavano nelle piazze della provincia. Recuperato l'involucro che il 29enne aveva tentato di gettare via l'arrivo dei militari, all'interno 23 grammi di hashish, mentre addosso aveva circa 1000 euro provento dell'attività di spaccio. L'uomo, tra l'altro, ha cercato di sottrarsi all'arresto scagliandosi contro i carabinieri, scalciando contro l'autovettura di servizio e inveendo contro i militari, rendendo così necessaria la sua immobilizzazione forzata, senza fortunatamente ulteriori conseguenze fisiche per il personale operante e per il fermato, perquisita anche l'abitazione. Abbiamo sequestrato quasi 4 kg di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana, inoltre bilancini di precisione e materiali inequivocabilmente destinato al confezionamento e smercio dello stupefacente. Trovati altri 455 euro in contante, tutto è stato sequestrato. Il GIP ha convalidato l'arresto del 29enne con l'applicazione della misura cautelare in carcere. È già scattata l'allerta influenza aviaria dopo l'individuazione di alcuni focolai tra Brescia, Verona e Ferrara. Nella bassa padovana la regione ha istituito la zona di ulteriore restrizione. Il primo caso segnalato all'istituto zoo profilattico delle Venezie risale a metà settembre, ma ad ottobre sono stati individuati alcuni focolai nelle province di Verona, Brescia e anche Ferrara. È l'allerta influenza aviaria dopo la terribile epidemia di un anno fa, che portò alla scoperta di 250 focolai, 35 nella bassa padovana, con l'abbattimento di 14 milioni di capi negli allevamenti veneti. La regione ha subito istituito una zona di ulteriore restrizione che comprende anche la bassa padovana a ovest dell'autostrada a 13 e tutta la zona dei colli euganei fino alla 4. A breve la provincia di Padova convocherà un tavolo tecnico. Nel frattempo, nelle zone di controllo, vietate fiere ed esposizioni all'aperto di Pollame. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I primi cittadini che noi abbiamo interpellato nelle scorse settimane proprio per chiedere come intendano organizzare, programmare l'illuminazione natalizia durante i periodi di festa. Ebbene, sono diversi i comuni che stanno ancora valutando il da farsi. A Creazzo il sindaco Carmela Maresca annuncia che rinuncia alle luminarie. Un Natale senza luci, senza luminarie. Il caro energia colpisce anche le festività. Il comune di Creazzo è costretto a fare delle scelte, sia al presepe, no all'albero, al classico abete in piazza. In tempi di austerity energetica, per non appesantire i conti pubblici, il sindaco Carmela Maresca ha deciso di tornare al significato originale del Natale per una festività un po' meno legata agli sfarsi delle luci e un po' più spirituale, con il presepe che, non essendo particolarmente energivoro, sarà l'unico simbolo del Natale che verrà esposto in municipio. A proposito di crisi energetica e aumento dei costi, ne continueremo a parlare più avanti, c'è stata anche però un'estate siccitosa, un'estate che ha creato tanti problemi all'agricoltura e non solo. L'allarme siccità rimane perché lo lancia in maniera molto chiara ai nostri microfoni il presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza, che dice che le piogge scese in quest'ultimo periodo sono assolutamente insufficienti per considerare superato il momento difficile. Continua a preoccupare e molto la situazione siccitosa che interessa le nostre campagne, i nostri fiumi, le nostre rogge. Qualche goccia di pioggia scesa nelle scorse ore di certo non basta. E il presidente del consorzio di bonifica Brenta, Enzo Sonza, lancia un vero e proprio allarme. Per risolvere il problema ci vorrebbe qualche settimana di pioggia, ma pioggia intensa perché la situazione è rimasta, a parte le temperature, è rimasta quella che c'era quest'estate. Le faglie sicuramente sono molto basse e le portate dei fiumi dei canali sono quasi inesistenti e quindi ci sono difficoltà anche a mantenere il minimo di flusso vitale dentro le rogge che abbiamo sul territorio. Basta guardare anche il fiume Brenta, la stessa fotografia che c'era quest'estate e anche quella odierna. Sono cambiate, come ripeto, le temperature, ma per quanto riguarda la disponibilità acqua, proprio siamo messi nella stessa situazione che eravamo in luglio-agosto. Si guarda con fiducia la possibile realizzazione del nuovo bacino del Vanoi, di cui si parla da anni che diventerebbe fondamentale per affrontare la crisi idrica. È uscito il bando di gara, dovrebbe concludersi entro il 9 di novembre e speriamo che tutti concorrono e capiscano qual è la situazione critica del territorio sotto l'aspetto idrico. Se vogliamo guardare però un lato positivo per quello che riguarda la situazione legata alla siccità è che la siccità ha impedito l'attacco della mosca olearia e questa stagione dell'olio extravergine si dimostra e si presenta come decisamente buona. Quest'anno siamo molto soddisfatti perché è finalmente una nata buona. Olio extravergine di oliva, una stagione decisamente buona. Nonostante la siccità, nonostante le grandinate improvvise, la conca degli olivi si riconferma un paradiso per l'oro verde che noi abbiamo seguito nella prima spremitura al frantoio di Pove del Grappa. E proprio le alte temperature di questa estate appena trascorse e la scarsità di piogge hanno impedito l'attacco della tanto temuta mosca olearia e di altri parassiti. Con le alte temperature il parassita della mosca non si è fatto vedere se non in minima parte. La qualità, visto proprio il tempo, è ottima, pochissima acidità, non erano olive molto sane e la pioggia è venuta nel momento della nutrizione quindi le piante hanno sofferto poco e quindi la nata è perfetta. E allora abbiamo parlato della siccità. Avevamo già introdotto il discorso crisi energetica, torniamo a parlare proprio di questo. Spese per l'illuminazione e per il riscaldamento degli edifici quadruplicate. Così il comune di Padova sta preparando una lettera da inviare ai dirigenti scolastici. Più di un centinaio di scuole da gestire, il comune di Padova sta scrivendo una lettera da inviare ai dirigenti per razionalizzare i costi per il riscaldamento e l'energia elettrica. È assolutamente impensabile di tagliare sulle attività scolastiche per i ragazzi. Quello che possiamo fare è pensare delle modalità nuove o più razionalizzate, delle riunioni, degli interclassi, dei contatti con i genitori che potrebbero essere fatti in maniera diversa. È difficile da parte nostra poter dire come fare, però so che ogni istituto che è particolare può avere una modalità che può essere effettuata con un minimo sforzo. Nessun taglio le attività dei ragazzi tornati in classe senza mascherina da settembre. Un invito dal comune a considerare incontri a distanza per i consigli di classe e i colloqui con i genitori. Una proposta a cui il comune ne aggiunge un'altra. Portare tutte in uno stesso edificio riscaldato quelle riunioni di incontro fra team che si fanno solitamente in scuole diverse. Le insolite temperature d'autunno hanno permesso di spostare a 2 novembre l'avvio del riscaldamento negli edifici pubblici, ma le spese per Palazzo Moroni sono quadruplicate. Si parla di una spesa complessiva, non solo del riscaldamento eccetera, ma complessiva di quello che è il funzionamento del comune sui più di 20 milioni di euro. Ci fermiamo adesso per il nostro secondo break pubblicitario. Rientriamo tra poco ancora per parlare di caro energia, poi la sanità, la politica, l'attualità, altre notizie di cronaca. Insomma, restate con noi. Rieccoci in diretta, sono quasi le 12.30, ancora tante notizie, tanti servizi da vedere insieme, tanti approfondimenti per quello che riguarda l'attualità e non solo in Veneto. Però continuiamo adesso il filone dedicato ai rincari e alle difficoltà che stanno rendendo decisamente complicata la vita quotidiana non solo delle famiglie, ma anche delle amministrazioni comunali, degli esercenti, di chi fa impresa, di chi lavora e chiaramente di chi deve far fronte a questo terribile, spaventoso aumento dei costi e delle spese. Bene, adesso come d'abitudine diamo voce ai cittadini perché c'è preoccupazione chiaramente per il protrarsi di questa situazione di crisi. Noi siamo stati a Mestre e abbiamo sentito cosa ci dice la gente su questi aumenti e su queste spese pazze. Stiamo aspettando che arrivino quelle nuove, cerchiamo di risparmiare normalmente quello che si può. Dicevano quando lavoravo nelle assicurazioni il buon senso del padre di famiglia è quello che ci dice il governo. Speriamo sempre sul nuovo governo cosa potranno fare. Abbiamo già visto, abbiamo visto gli aumenti per cui... Come vi difendete? Beh io ho la fortuna di stare decentemente e guadagnare bene per cui... Le paga? Per cui pago, mi spiace per chi ovviamente non ce la fa. Quello che mi spaventa è la bolletta del gas che deve ancora arrivare. Cosa farà? Gas. Solo che si tende a chiudere, adesso ho tre stanze di sopra, due le chiuderò e siamo io e mia moglie, andiamo a dormire su quella più calda. Cioè è diventato un vero problema. So solo che intanto dobbiamo, se io abito in condominio, pagare un anticipo notevole e sperando che gli altri condomini paghino, perché se no veramente siamo messi a terra. Ho visto un notevole aumento, senza dubbio. Cosa si fa? Bisogna pagare? Bisogna pagare. Chi ce la fa, bene. Chi non ce la fa, mi dispiace. L'unica soluzione è che anche i politici dicono no, dobbiamo pagare. No, non pagare. Tutto il popolo non deve pagare. A proposito di spese, di costi, di riscaldamento e di energia, arriva una buona notizia. Da Asiago, perché è stata presentata la seconda fase del progetto energetico di ampliamento della rete del teleriscaldamento. Un cerchio che si chiude partendo dalla natura e finendo con l'abbracciare la comunità altopianese e il futuro di un territorio pronto a diventare sempre più autosufficiente. È stata presentata ad Asiago la seconda fase del progetto energetico di ampliamento della rete di teleriscaldamento attraverso l'impianto di biomassa legnosa. Una collaborazione tra il comune di Asiago e Vi Energia. L'obiettivo è arrivare entro il 2027 a rifornire 500 utenze, ma è già stata presa in considerazione l'ipotesi di ampliare la portata dell'impianto per andare a coprire anche la zona di Gallio. L'impianto si basa sull'utilizzo del cippato di legno proveniente dagli scarti della lavorazione del legno dei boschi dell'altipiano di Asiago. Quindi questa infrastruttura energetica è del tutto autonoma e dipende da una materia prima che si raccoglie a chilometro zero. Con i costi attuali del gas il risparmio in questo momento per le famiglie e l'amministrazione toccherebbe il 70%, ma anche a condizioni normali questa soluzione porta a un abbattimento della spesa tra il 15% e il 20%. Il costo di allacciamento è del tutto simbolico, quindi per una grande utenza può essere dell'ordine di qualche migliaio di euro, per una piccola utenza una famiglia o è zero o è qualche centinaio di euro. Insomma, Asiago è già proiettata al futuro con l'idea di rispettare l'ambiente utilizzando le risorse dell'ambiente, scelte lungimiranti per chiudere quel cerchio tracciato anni fa. Permettono a noi come amministratori di conseguire un risparmio importante, essendo che il prezzo del terrescaldamento non è indicizzato al costo del gas naturale. Questo è certamente un messaggio importante perché noi riusando gli scarti del bosco, utilizzando gli schianti, gli alberi schiantati dal vaia piuttosto che quelli ammalati dal bostrico, riusciamo a produrre questo cippato che entra in un circuito che produce non solo riscaldamento ma produce anche energia. Cambiamo adesso discorso, non parliamo di rincaro dei costi e delle bollette, anche se ci torneremo più avanti, ma parliamo di difficoltà comunque legate sempre all'economia e al mondo del lavoro, perché dopo lo stop all'obbligo di utilizzo del POS per i tabaccai anche i baristi. I ristoratori, per voce dell'app e l'associazione di categoria padovana, chiedono di essere esentati per le microtransazioni. Il decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane va proprio nella direzione nella quale noi auspichiamo, vale a dire il riconoscimento che su determinati volumi di transazioni, quindi parliamo delle microtransazioni, il caffè piuttosto che il pacchetto di caramelle o il netto comprato al bar, il costo delle commissioni va ad erodere, addirittura a volte supera il margine di guadagno dell'esercente. Quindi così come è stato previsto per le tabaccherie e le rivendite di generi di monopolio la possibilità per l'esercente di decidere se accettare o meno i pagamenti elettronici, noi chiediamo che anche nei pubblici esercizi venga data questa facoltà. Questo l'appello dell'app e l'associazione di categoria di barristi e ristoratori padovani al governo sull'uso del banco ma per le piccole transazioni. Non è in discussione la necessità di utilizzare la valuta elettronica sulle microtransazioni però. Il margine di guadagno è minimo se non inferiore ai costi di commissione imposti dalla banca. L'azzeramento delle spese per le transazioni ad esempio fino a 5 o 10 euro sicuramente è una valida alternativa, è auspicabile assolutamente, gli esercenti non sono contrari alla moneta elettronica a prescindere, non è un problema di tracciabilità finanziaria, di evasione fiscale, è un problema comunque di perdita di tempo perché noi pensiamo quando andiamo al bar o in qualsiasi negozio e paghiamo col banco ma con la carta di credito c'è del tempo da impiegare. Caro Bollette, una buona notizia per i veneziani perché è in arrivo il contributo erogato proprio dal comune di Venezia per le famiglie che ne avevano fatto richiesta attraverso il bando. 6.100 famiglie riceveranno quindi nelle prossime giornate i soldi del aiuto, del contributo Bollette che il comune di Venezia ha voluto erogare, un milione e mezzo complessivamente circa 245 euro a famiglia Le domande totali erano 6.640 quindi il contributo arriverà alla maggior parte delle famiglie che l'hanno richiesto. È un aiuto considerevole in termini comunali perché sono tante risorse per un comune sappiamo benissimo che però non sarà sufficiente a risolvere tutti i problemi delle famiglie veneziane né a in qualche modo alleviare il peso di questo rincaro delle bollette quindi siamo pronti per intervenire su altri fronti, stiamo lavorando moltissimo anche sul tema della residenza per evitare che scoppino le morosità nei condomini, per evitare che ci siano situazioni anche di povertà estrema delle famiglie e quindi il sociale del comune è mobilitato veramente con tutte le sue risorse per dare una risposta. Dopo due anni di covid in cui il comune ha lavorato moltissimo per affiancare anche attraverso la distribuzione di pacchi alimentari a molte famiglie durante questi anni difficili, speravamo di essere arrivati a un momento di tirare il fiato, il sospiro di sollievo, invece siamo di nuovo tornati in piena emergenza. Che il comune sta cercando di fronteggiare ma è necessario un ulteriore intervento dal governo per agire a 360 gradi? Ecco il rischio è che entriamo in un tunnel da cui rischiamo di non uscirne più, per quello dobbiamo intervenire adesso per aiutare famiglie ma anche le aziende che ci dimentichiamo troppo spesso esistere da quelle piccole, dall'artigiano, dalla pizzeria, dal bar, dal piccolo negozio alla grande azienda energivora. Sono tutti temi legati al lavoro e senza lavoro non si pandano avanti le famiglie. E chi rischia di rimetterci in maniera sicuramente importante nel vortice di tutte queste difficoltà economiche? Sono coloro che hanno dei familiari, delle persone care nelle case di riposo perché il pericolo stangate sulle case di riposo è concreto e i sindacati temono forti aumenti per le rette degli ospiti nell'ordine anche di oltre 2000 euro in più all'anno. Appello dunque alla città metropolitana, in questo caso parliamo di Venezia, ma è un discorso che si estende a tutte le realtà del nostro territorio. Anche la CGL è pronta a guidare la mobilitazione. Alle famiglie degli ospiti di alcune case di riposo veneziane stanno arrivando lettere con possibili rincari delle rette. La CGL denuncia una situazione insostenibile. Proprio in questi giorni stanno arrivando le prime lettere, le prime comunicazioni. Le residenze prevedono aumenti di 180 euro mensili, più di 2000 euro all'anno. Costi insostenibili per le famiglie. I sindacati chiedono interventi straordinari dello Stato, con le famiglie già impegnate sul fronte del caro energia e degli aumenti per l'inflazione, e lanciano un appello. Abbiamo inviato una lettera a tutti i sindaci della città metropolitana, al presidente della città metropolitana, alle forze politiche, perché servono interventi immediati. A questo si deve aggiungere la continua emergenza del personale, con richieste di trasferimento o di missioni che mettono a rischio il servizio. La lettera aperta, inviata a Luigi Brugnaro, presidente della città metropolitana, lascia aperto lo spazio per una mobilitazione di piazza. Chiediamo risposte immediate. Se non le avremo, siamo pronti a mobilitarci nei confronti di tutte le istituzioni. Non servono proclami, parole o impegni. Oggi servono fatti concreti. Anche la politica scende in piazza, perché i sindaci del Vicentino guardano al nuovo governo e chiedono, avanzano, quelle che sono delle richieste che ricalcano le necessità, i problemi del territorio. Allora al nuovo governo i primi cittadini del nostro territorio chiedono anzitutto interventi veloci per quello che riguarda la situazione legata ai rincari, ai costi e alle famiglie in difficoltà. E poi resta di primaria importanza anche il tema dell'autonomia. Il nuovo governo in rampa di lancio. La Premier, Giorgia Meloni, in Parlamento prima del voto di fiducia, traccia la rotta e indica le linee programmatiche. Abbassare le tasse, la politica energetica, il presidenzialismo. Ma non solo dall'alto si costruisce. La sfida sarà costruire il futuro partendo dal territorio, dai comuni. Per questo i sindaci del Vicentino indicano le priorità più sentite. La necessità di un intervento strutturato a sostegno di famiglie e imprese rispetto ai costi energetici. Non sottovalutare quello che è l'aspetto delle bollette, ma dell'autonomia, perché il popolo Veneto ci crede fermamente. Si riconosca l'importanza per rafforzare la nostra nazione di valorizzare tutti i livelli di governo, a partire dai comuni, alle province, alle regioni. Un governo, quello appena insediato, che sin da subito appare coeso, solido, ma soprattutto concreto. Tutte caratteristiche che in questo momento storico noi sindaci abbiamo bisogno per far fronte all'ennesima crisi che ci sta colpendo. Speriamo che il nuovo governo a cui auguro buon lavoro intervenga al più presto in nostro aiuto. Noi piccoli e medi comuni abbiamo necessità di avere un interlocutore forte, che ci sia a fianco, che ci ascolti e che ci dia risposte concrete. Caro energia, autonomia, ascolto dei cittadini, sono queste le priorità indicate dai sindaci, mentre a Vicenza viene rilanciato anche il tema delle infrastrutture che vanno sbloccate. Nelle prossime ore scriverò al ministro delle infrastrutture Salvini per avere risposte su alcuni dossier che hanno delle difficoltà oggettive. La tangenziale Ovest e la variante SP46, i gravi ritardi di Anas in questo apparto verranno portati all'attenzione del ministro al quale chiederemo anche un confronto per capire come intende intervenire sull'argomento. La sfida per il nuovo governo è epocale. I sindaci vicentini osservano. Il futuro è iniziato. Piccola pausa per noi, rientriamo tra due minuti con tutte le altre notizie. Ben ritrovati in diretta con Focus Tg, andiamo avanti con i nostri servizi, con la nostra scaletta. Adesso ci spostiamo a Padova, non per parlare di rincari e di costi, ma di una prospettiva importante per il mondo delle imprese perché è una certificazione di sostenibilità, il nuovo marchio per Padova, assegnato a imprese e servizi che rispondono appunto ai requisiti di sostenibilità ambientale e sociale dall'Agenda 2030. Tre requisiti di sostenibilità ambientale e tre di sostenibilità sociale sono le caratteristiche richieste d'enti e servizi del Comune di Padova per ottenere il marchio per Padova. Il marchio per Padova ci aiuta facendo partire anche dal basso dei percorsi di sensibilizzazione e di attuazione di politiche sostenibili da un punto di vista sociale e anche da un punto di vista ambientale perché, lo ricordo, le due cose non possono che andare insieme e questo sarà un tassello per riuscire a raggiungere questo obiettivo del 2030, come dicevo, molto difficile. Due tipi di marchi, il marchio blu per gli enti sia pubblici che privati, il marchio verde riservato ai servizi distinto tra servizio alla vita quotidiana e servizio alla persona. 36 le imprese già certificate da Palazzo Moroni. È il Comune che si occupa di vagliare queste caratteristiche. La procedura naturalmente è un po' sfidante perché la sostenibilità non è una questione di parole, è una questione di pratiche quotidiane che devono riguardare sia l'impatto ambientale che l'impatto sociale e quindi tutta la presa in carico del lavoro. Per questo ha molto a che fare con il mio settore e il settore servizi sociali. Il marchio dura due anni e può essere usato come strumento di visibilità. Nuove richieste e informazioni sul portale Padova Per. Case Ater, un milione di euro per appartamenti che serviranno a garantire la legalità e il quieto vivere nei condomini. Questo a Treviso. Quasi un milione di euro per famiglie speciali. È quanto investire a Latte per prevenire l'illegalità e dare tranquillità a diversi condomini popolari? Le famiglie che possano essere, ad esempio, a tutta la palazzina. Potrebbero essere famiglie di ex carabinieri, famiglie di militari, di forze dell'ordine, oppure dei capi scala che possano dare l'esempio a tutta la palazzina. Un investimento all'interno di molti progetti in cantiera da tempo, come la riqualificazione di queste palazzine tra la Feltrina e la strada per Castagnole a Treviso. Grazie a 46 milioni di euro arrivati all'Ater dall'Europa e da Roma, 11 edifici saranno abbattuti per dare spazio a una nuova edilizia residenziale pubblica. Da subito partiremo con due grossi interventi, uno da 32 e un 16 più 16, quindi complessivi, 64 alloggi. 64 alloggi che confidiamo di mettere a disposizione, cantierare per il prossimo anno e in giro di un paio di anni di consegnarli alla collettività. Quando saranno abbattute tutte le palazzine, gli alloggi complessivi nell'area con nuove edificazioni saranno 113, in parte assegnati, in parte a canone agevolato. Altra novità riguarda questa palazzina non ancora terminata a causa del fallimento dell'impresa. Finalmente siamo riusciti a riappaltare l'ultimazione della L a Monigo per 24 alloggi e riusciremo ad edificare anche la L gemella che dovrebbe sorgere di fronte a quella. Nuove edificazioni ma anche interventi migliorativi degli alloggi. Sette progetti che vanno da Treviso a Conegliano, Vittorio e vari paesi. Qui sono circa 113 alloggi che vanno riqualificati con capotti, serramenti, caldaie. L'obiettivo è quello di agevolare il pagamento, quindi ridurre le bollette agli inquilini dei nostri edifici. Si sono tenuti a Padova gli stati generali delle città intelligenti. Scopriamo di che cosa si tratta. Più di 400 tra amministratori comunali, dirigenti della pubblica amministrazione ed innovazioni si sono dati appuntamento a Padova per discutere di soluzioni innovative per rendere le città più smart e funzionali. City Vision, un contenitore per gli stati generali delle città innovative. Certamente il fatto di ospitare eventi come questo, come City Vision, è per noi motivo d'orgoglio e anche dimostra in qualche modo l'attenzione della città verso i temi dell'innovazione e della trasformazione intelligente della città. Padova è già tra l'altro pilot city in una serie di progetti europei altamente innovativi così come capofila in altrettanti progetti a livello locale volti appunto a consentire questa trasformazione intelligente della città. Padova quindi sempre più laboratorio per il rinnovamento anche attraverso l'hub dell'innovazione che si sta costruendo in fiera. City Vision è naturalmente padovana e quindi troverà naturalmente una collocazione lì. City Vision è un progetto di Padova Hall e di Bloom quindi nasce in fiera ed è anche uno degli esempi di cosa la fiera può diventare. Non soltanto un evento, un evento espositivo come quello di quest'oggi ma un qualcosa che dura tutto l'anno, una comunità che viene generata. E adesso noi diamo la linea, ci spostiamo dal nostro studio a Padova precisamente con il nostro collega Federico Fusetti. Perché? Perché dobbiamo parlare di salvaguardia dell'ambiente, di natura dobbiamo parlare anche di una polemica che riguarda il taglio degli alberi alla stanga insomma ma ci racconta tutto nel dettaglio proprio Federico Fusetti a cui ci diamo la linea. Buongiorno Federico. Buongiorno Alex, buongiorno ai telespettatori, sono qui con Federico Cibotto eravamo stati già in questo preciso posto il primo ottobre perché c'era stata un'assemblea dei residenti, una cinquantina di persone ma quelle interessate sono veramente molte di più parliamo di migliaia di persone che abitano in questa zona della città perché alle mie spalle passa via Friburgo, auto, camion, treni e quindi l'amministrazione ha deciso di posizionare una barriera fonoassorbente il problema è però, e questo soprattutto sottolineano i cittadini qualcuno di loro è qui anche oggi con noi che questo comporta l'abbattimento di un centinaio di alberi e ovviamente insomma i cittadini dicono prima cerchiamo di fare tutto il possibile per non abbattere gli alberi e pare che una possibile soluzione loro l'abbiano anche proposta vero? Chiedo, conferma Paolo Manfrin che è il presidente del Comitato Stanga dicevo siamo venuti il primo ottobre, adesso cosa è successo in questo periodo? è successo che purtroppo di brutto abbiamo visto un documento che avevo presentato l'altro giorno dove da 94 alberi siamo passati a 119 perché hanno ampliato questo riporto di terra, lo spazio di manovra dei camion e per fare questa barriera fonoassorbente che secondo noi non servirà praticamente a nulla perché è alta 6 metri e mezzo con dei palazzi alti 18 per cui stiamo parlando di una cosina così su un palazzo alto così cioè i rumori diciamo supereranno la barriera? i rumori serviranno, servirà a tuttire i rumori solamente il primo e il secondo piano e tutti gli altri piani comunque subiranno il rumore perché non servono noi abbiamo fatto una proposta di una barriera alternativa a più alta posta sul marciapiede in modo da poter far sì che è più vicino alla fonte di rumore per cui il rumore verrebbe contenuto di più e peraltro è anche più alta costerebbe secondo noi anche meno e il problema è che l'amministrazione a tutt'oggi non ha voluto trovare delle sinergie con noi noi gli abbiamo presentato questo progetto, stiamo aspettando l'incontro con il sindaco che sarà il giorno 17 di novembre e ci sarà una manifestazione che facciamo venerdì alle ore 12 davanti al Palazzo Moloni ecco una cosa che è importante sapere è che qui c'è una flora ma anche una fauna incredibile perché qui abbiamo anche una marea di tipologie di uccelli che stanno qua voi non lo sentite ma in questo momento abbiamo tutto è una delle poche zone verdi della zona l'unico bosco della stanga, l'unico bosco che è rimasto sarebbe veramente una follia, è anacronistico abbattere tutti questi alberi noi non capiamo perché i progettizi di questa cosa qua nel 2022 che siamo non hanno pensato che forse abbiamo dei problemi climatici peraltro siamo stati scelti come la città, una delle città campione che dovrebbe tutelare e abbattere l'inquinamento ma se tu mi abbatti gli alberi sappiamo benissimo che gli alberi ci tutelano dall'inquinamento Tra i residenti c'è anche Maria Elena Martinez, medico e anche lei incredula di quello che sta accadendo Assolutamente sì, è inaccettabile perché qui oltre la possibile alternativa che abbiamo trovato dal punto di vista costruttivo in realtà sono già delle barriere fonoassorbenti naturali gli alberi e se venissero aumentati nei primi 8 metri sarebbero una barriera fonoassorbente totale quindi non ne capiamo proprio il senso dell'abbattimento le soluzioni diverse esistono io capisco che può capitare di intraprendere una strada inizialmente ma poi negli anni si capisce che quella strada non è più accettabile in una situazione, voi vi rendete conto che a ottobre siamo con un caldo terrificante il cambiamento climatico è evidente a tutti noi non possiamo continuare a pensare che va ma cementificare o abbattere alberi è tutto uguale eccetera bisogna pensare alla nostra salute oggi non si può più fare abbattimenti così gratuiti quindi chiediamo a tutti di incontrarci questo venerdì dalle 12 alle 13 davanti a Palazzo Moloni per protestare in particolare per questo abbattimento ma in generale per tutti gli abbattimenti che stanno avvenendo su Padova che sono inaccettabili il 17 novembre invece vi troverete con il sindaco c'è qualche speranza che cosa gli direte? allora io spero tanto che il sindaco voglia ascoltare e vedere le differenze tra il progetto attuale e miope e invece le possibilità alternative prima cosa ma soprattutto che fermi l'abbattimento fino al 17 perché altrimenti quell'incontro a cosa servirà ad andare soltanto a tirare gli pomodori quindi avete sentito cosa è successo l'importanza delle prossime settimane per questa vicenda che riguarda i cittadini di questa zona di Padova Alex grazie a Federico Fusetti Federico Cibotto ai tuoi ospiti sicuramente seguiremo da vicino l'evolversi di questa situazione in attesa dell'incontro con il primo cittadino grazie, noi rientriamo in studio andiamo avanti con le altre notizie perché oggi giornata importante per la seconda udienza del processo d'appello per quello che riguarda Veneto Banca intanto dagli avvocati dei risparmiatori parte un appello al nuovo ministro della giustizia nordio il processo Veneto Banca per associazione delinquere che è stato appunto rinviato nel 2023 deve assolutamente avere luogo prima e appunto un rinvio al 2023 è assolutamente inaccettabile avvocati dei risparmiatori sempre più polemici con il tribunale di Treviso mentre domani mattina l'aula bunker di Mersa si darà la seconda udienza del processo d'appello a Vincenzo Consoli per la condanna di ostacolo alla vigilanza e falso in prospetto continua a far discutere il rinvio al novembre del 2023 per l'inizio del processo per truffa contestato dallo stesso pubblico ministero Massimo De Bortoli con un rinvio del genere il processo è già morto è morto ancora prima di cominciare per questo non solo l'avvocato Moschini ma molti altri rappresentanti dei risparmiatori truffati lanciano un appello al neoministro della giustizia che ben conosce la vicenda Veneto Banca chiediamo appunto quindi che il ministro intervenga sul tribunale capisca come mai c'è stato appunto questo rinvio così là nel tempo e faccia il possibile per fare in modo appunto che il processo venga anticipato altrimenti tutti i risparmiatori rischiano di rimanere con un pugno di mosca in mano processo che aprirebbe la strada per possibili risarcimenti di consoli ai risparmiatori e siccome appunto ci sono molti risparmiatori che su questo processo fanno affidamento è indispensabile che venga appunto celebrato in tempi rapidi e appunto corretti torniamo a Padova e parliamo del futuro dell'area dell'ex caserma Prandina i commercianti sono fermi sul loro punto di vista sulle loro idee in quell'area chiedono serve un parcheggio il parcheggio della Prandina non è il parcheggio dei commercianti il parcheggio della Prandina è il parcheggio di tutta la città è il parcheggio ovviamente di chi vuole fruire del centro storico come avviene anche in altre zone nell'area est l'area est della città è già come dire dotata di un grande parcheggio il destino della caserma Prandina continua ad animare il dibattito cittadino dopo l'incontro di sabato scorso in cui si è discusso del futuro dell'area a ridosso delle mura i commercianti tornano a chiedere che venga realizzato un parcheggio Padova è una città a vocazione commerciale a vocazione turistica e come succede anche in altre città del Veneto ma diciamo di tutta Italia si concepisce e si realizza un grande parcheggio alle porte del centro storico del cuore pulsante della città per fare che cosa? per aumentare il PIL il benessere, la ricchezza, i posti di lavoro, lo sviluppo e quindi noi su questo ovviamente siamo assolutamente intransigenti il comune ha ribadito che la vocazione principale non deve essere quella di parcheggio anche se non esclude la realizzazione ecco i numeri che l'associazione dei commercianti richiede l'area è vastissima quindi noi ovviamente abbiamo fatto un conto che lì ci potrebbero stare mille posti auto senza nessun tipo di problema dopodiché lo possiamo valutare perché se anziché mille posti se ne realizzano 800 o 700 per noi va bene lo stesso ci fermiamo adesso per il nostro ultimo break pubblicitario rientriamo tra pochissimo ben ritrovati in diretta con Focus TG sono da poco passate le 13 questo significa che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora insieme ma sono tante le cose da vedere tanti i servizi che vi proponiamo insomma che riguardano anche tematiche un po' più leggere perché parleremo comunque di turismo parleremo anche di sport parleremo di cultura a proposito di cultura a Vigo di Cadore è stato sottoscritto un importante accordo per la catalogazione e la digitalizzazione del patrimonio della biblioteca storica grazie è piccolissima questa è l'originale questa è l'originale manoscritti e materiali antichi rari e di pregio incunaboli cinquecentine seicentine settecentine stampe in causa è uno scrigno di tesori il patrimonio custodito dalla biblioteca storica di Vigo di Cadore che riguarda la storia e la cultura del territorio cadorino che entro il prossimo anno sarà catalogato e digitalizzato da un apposito comitato tecnico scientifico individuato nell'accordo sottoscritto questa mattina dalla provincia la magnifica comunità di Cadore e il comune di Vigo di Cadore l'accordo prevede la catalogazione dei volumi presenti nella biblioteca storica cadorina e successivamente ci sarà anche l'allestimento della sezione ladina un progetto per il quale la provincia di Belluno ha riconosciuto alla magnifica comunità di Cadore un contributo pari a circa 22.000 euro che saranno necessari per l'attività di catalogazione di libri antichi e manoscritti è un percorso che abbiamo iniziato con la regione Veneto e oggi abbiamo sancito questo accordo con la magnifica comunità di Cadore e il comune di Vigo di Cadore che è un segnale soprattutto di fare squadra ma soprattutto di salvaguardare quel patrimonio culturale e artistico che fa parte del nostro territorio provinciale una iniziativa fondamentale per la magnifica comunità per la valorizzazione della biblioteca storica eccellenza di quel territorio e per il ritorno in Cadore della biblioteca ladina siamo molto contenti di essere stati coinvolti come gestore proprio amministrativo di alcune iniziative collegate al progetto e lo porteremo avanti con convinzione il nucleo ladino in Cadore è ancora molto forte e il ritorno alla biblioteca è un segno importante Restiamo nell'ambito della cultura in questo caso però non si tratta di salvaguardare un patrimonio ma di dare delle risposte, delle necessità perché aule affollate, didattica a distanza e carenza di alloggi queste le problematiche a Padova, nell'università Incontro tra gli studenti del Udu e la rettrice Daniela Mappelli aule sovraffollate, didattica a distanza e trasporto gratuito i temi principali della riunione da cui i rappresentanti degli studenti dicono di essere usciti senza concrete soluzioni Un finto confronto lo definiscono in una nota gli universitari che da settimane parlano dei problemi di questo inizio anno Classi affollate, mense sottodimensionate la non attivazione della didattica a distanza carenza di alloggi per gli studenti Siamo increduli e arrabbiati non è possibile che la dirigenza di un ateneo con una storia di 800 anni sia incapace di individuare delle soluzioni a problemi importanti come il sovraffollamento delle aule e delle mense Stanno costringendo migliaia di studenti ad abbandonare gli studi e nemmeno se ne rendono conto questo il pesante commento di Domenico Amico senatore accademico e coordinatore di Udu Padova I rappresentanti dell'unione degli studenti dicono di essere pronti alla mobilitazione inizieranno il 3 novembre davanti alla mensa Piovego Nonostante le file chilometriche e la mancanza di spazi fanno sapere gli universitari l'ESU ha deciso di organizzare un DJ set che suona come l'ennesima presa in giro nei confronti di chi non riesce a mangiare frequentare lezioni o trovare una casa se l'obiettivo era farci festeggiare ci troveranno pronti a mobilitarci in difesa degli studenti Sicurezza degli studenti in azienda sicurezza degli studenti a scuola se ne è parlato a Treviso A poco più di un mese dalla tragedia in cui Giuliano De Seta ha perso la vita durante uno stage facente parte del programma alternanza scuola-lavoro si torna a parlare di gestione della sicurezza degli studenti in azienda Dieci volte sicurezza il titolo dell'appuntamento al Giorgio Fermi di Treviso organizzato da UNICEF che ha coinvolto studenti e personale scolastico negli aspetti della formazione Come ente di formazione del sistema confindustiale c'è una forte attenzione e vogliamo fare cultura cultura sulla sicurezza sui luoghi di lavoro Per dare maggiore enfasi a questa tematica abbiamo volutamente scelto di farla all'interno di una scuola e coinvolgendo anche sul tavolo dei redattori non solo la scuola ma anche gli organi ispettivi proprio per la testimonianza del fatto che la sicurezza è un tema che riguarda un po' tutti e tutti in vario titolo devono dare sostanzialmente un contributo Tema dunque di estrema attualità che vede coinvolti più soggetti con responsabilità differenti ma tutti aventi l'obiettivo di consentire allo studente di poter lavorare in salute e sicurezza Organizzare i percorsi formativi e dare della documentazione del materiale validato anche dagli enti esterni alla scuola permette agli aziende che accolgono gli studenti di validare la formazione fatta a scuola e poi di contribuire con percorsi legati ai rischi specifici dell'azienda a completamento della formazione necessaria per poter mettere in atto i percorsi all'interno delle aziende quindi lo studente con la rete quindi grazie al supporto della rete fa un percorso formativo inerente al proprio percorso scolastico e l'azienda che subentra riconosce quello che è il percorso formativo fatto a scuola e quindi organizza poi attività formativa a completamento della formazione necessaria per le attività Ci spostiamo adesso a Cartigliano perché a novembre partiranno i lavori di ristrutturazione per la barchessa nord della splendida Villa Morosini-Cappello Cartigliano lucida il suo diamante più prezioso alvia i lavori di ristrutturazione per il complesso monumentale di Villa Morosini-Cappello fiore all'occhiello del territorio A novembre inizieranno i lavori per la ristrutturazione della barchessa nord o meglio un pezzo di ristrutturazione perché purtroppo per tutto il complesso Villa Morosini-Cappello seguirebbero ben 4 milioni di euro Un altro passo in avanti verso la ristrutturazione completa della villa verrà riaperto l'arco nord che affaccia su Viale Cappello rinnovata la pavimentazione e sistemati gli archi del fronte sud della barchessa Grazie al contributo preso dal Ministero della Cultura un contributo di 176 mila euro per un importo totale di lavori di 220 mila Un comune è quello di Cartigliano che continua ad investire per la città e il territorio Noi abbiamo fatto un grosso investimento in vista del PNRR abbiamo investito ben 70 mila euro di progettazioni e abbiamo partecipato a tutti i bandi a disposizione Non dimentichiamo che abbiamo preso i soldi per il faccimento di Via Pio X di Piazza Concordo e di Via Le Cappello e stiamo aspettando anche i soldi per la nuova scuola materna Dunque ci si deve credere dobbiamo crederci e fare soprattutto un gioco di squadra perché con il PNRR si potrebbero portare a casa anche dei fondi per tutto il territorio Lavori anche nella palestra delle scuole medie di Marostica Buone notizie riguardano la palestra di Marostica capoluogo usata sia dai giovani delle medie sia dai vari gruppi sportivi dopo i disagi provocati la scorsa estate da una perdita d'acqua che ha danneggiato in maniera importante la pavimentazione al via i lavori di sistemazione e sostituzione del parquet che l'amministrazione aveva provveduto sin da subito appena venuta a conoscenza del problema a tamponare Siamo intervenuti immediatamente per aspirare l'acqua una volta riscontrato il problema sulla tubatura che perdeva e successivamente per cercare di chiudere il danno ben che meglio attendendo le ditte specializzate che venissero a risolvere il guasto Il lavoro comprende appunto l'asportazione del parquet di tutti gli strati di cuscinetti a livelli inferiori con il totale ripristino di questi e di tutta la sede del nuovo parquet Un intervento per un importo che si aggira sui 100.000 euro Per i tempi Mozzo invita a portare pazienza Non possiamo dare un tempo preciso perché è un'operazione molto delicata e dipende dalle condizioni meteorologiche la posa del legno su una superficie così ampia è soggetta naturalmente a sbalzi e dilatazioni per cui la temperatura deve essere il più costante possibile e anche l'umidità Cerchiamo di farlo nei tempi minori possibili comunque per non creare disagi prima alla scuola e naturalmente alle varie società e alle varie associazioni che utilizzano la palestra e in primis il basket E restiamo a Marostica perché al Politeama tutto è pronto per la nuova stagione teatrale e ci sono delle novità Arriva al Politeama di Marostica la bella stagione da ottobre a maggio al ridotto prime assolute nuove produzioni e poi i classici da cieco fa euripide i contemporanei passando al teatro dedicato ai più piccoli una panoramica a 360 gradi per coinvolgere ogni generazione nella magia e nel fascino unico delle scene Sono cinque anni che lavoriamo attivamente per avere un'attenzione sul teatro per rendere i nostri cittadini ma non solo i nostri dei cittadini attivi una promozione forte sentita e quindi un'occasione unica anche una promozione culturale diversa diremo Momenti di spettacolo intensi ma anche divertenti e poi spettacoli per le famiglie la domenica i bambini a scuola con i genitori In una parola soprattutto in questo periodo così difficile come definirebbe lei il teatro? Il teatro in questo momento è la molla sociale di relazione tra le persone E a proposito di Politeama dal sindaco Matteo Mozzo un'anticipazione Questa è l'ultima bella stagione nel ridotto in vista della riconsegna alla città del teatro Politeama Rendiamo adesso tutti gli aggiornamenti sul caso San Lazzaro quindi ci spostiamo da Marostica a Bassano al rush finale il percorso che potrebbe portare centinaia di migliaia di metri quadrati di asfalto capannoni e cemento nelle campagne di San Lazzaro vediamo tutti gli ultimi aggiornamenti Pronti via San Lazzaro è allo sprint finale il traguardo è in vista ma al momento nessuno sa come andrà a finire questa corsa tecnici e referenti delle aziende AGB e MEB sono arrivati in sala consigliare a Bassano per la conferenza dei servizi alla quale hanno assistito anche i residenti e subito è arrivata una sorpresa già perché il percorso relativo all'area Pengo sembra destinato a decadere dato che il proponente non ha risposto in alcun modo al preavviso di Diniego emesso dal municipio a meno di clamorosi ribaltoni resta quindi in piedi solo il secondo progetto che si è trovato di fronte ai no di sovrintendenza e ARPAV e alle forti perplessità di altri enti questo vuol dire poco o nulla nell'ottica del percorso complessivo perché la conferenza proseguirà proprio per dar modo alle parti di mettere a punto prescrizioni e appianare criticità poi la palla passerà alla politica e allora il consiglio comunale dovrà scegliere quale strada prendere i residenti nel frattempo hanno già ribadito ancora una volta la loro posizione possono impiantare alberi possono fare ordini orti io sicuramente per dove abito non vedrei più il sole su una casa con dei vincoli che non ha potuto spostare nemmeno un centimetro di finestra ed ora mi fanno un bel capannone a fianco dietro e fuori dal cancello io credo che in una situazione in cui in Italia in Veneto le piogge siano sempre meno e anche il grano sia meno credo che andare a impermeabilizzare il poco terreno agricolo che resta togliendo possibilità di assorbimento dell'acqua non sia nell'interesse dei cittadini anzi associazioni ambientaliste di categoria come col diretti hanno fatto sapere mesi fa da che parte stanno bocciando l'intervento su San Lazzaro e chiedendo che quel lembo di campagna rimanga così com'è abbiamo ascoltato una discussione interessante e molto puntuale in alcune parti siamo un po' stupiti che alcune documentazioni non siano pervenute i tempi per chiudere con un sì o con un no entro l'anno ci sono tutti nel frattempo c'è spazio per uno scambio di vedute fra cittadini e imprenditori fuori dalla sala consigliare dove si conferma ancora una volta che le esigenze degli uni e degli altri sono molto molto lontane alla fine sarà la politica a dover decidere il futuro della città e qualcuno rimarrà per forza scontento energia pulita una sala per il quartiere assunzioni sul territorio mense letteralmente a chilometro zero ecco il contenuto del progetto di San Lazzaro spiegato dall'architetto che coordina il procedimento le tre ditte proponenti si metteranno a disposizione le proprie coperture per poter realizzare un impianto fotovoltaico che sarà la prima comunità energetica del comune di Bassano cosa significa? significa che le ditte regaleranno l'energia autoprodotta al quartiere allo stesso tempo si propongono di realizzare una casa della socialità propria per il quartiere perché possa essere di loro uso per tutte le attività perché sono comunque quartieri molto vivi e anche molto attivi unitamente anche un legame con il territorio attraverso l'acquisto per le mense aziendali di prodotti a chilometro zero sempre del Bassanese ovviamente prediligendo le assunzioni sul territorio al netto ovviamente di specialità specifiche e dei contratti nazionali sul lavoro e oltretutto anche cercando di condividere gli spazi di loro proprietà o comunque che sono destinati allo standard pubblico per realizzare una comunità queste aziende non vogliono essere queste astronavi che cadono sul territorio ma vogliono lavorare con la comunità e ascoltiamo adesso la voce della politica Bassanese il percorso tecnico su San Lazzaro è appena iniziato ma impegnerà la città sotto molti aspetti per i prossimi mesi oggi ha preso via la conferenza decisoria appunto per MEB e AGB avete avuto modo anche di assistere è una conferenza puramente tecnica dove sono stati esaminati i pareri dei vari enti nelle prossime ore verrà stilato un verbale ovviamente la conferenza di servizi deve chiudersi entro 90 giorni il percorso coinvolgerà necessariamente anche la politica con il consiglio comunale che raccoglierà il faldone per un parere molto pesante a seconda dell'esito della conferenza di servizi parte tecnica ci sarà l'artifica in consiglio comunale qualora il parere dovesse essere positivo altrimenti il procedimento si chiuderà dopo qualche mese di annunci sulla condivisione si è vista la presenza se non la parola dei cittadini a margine del percorso su San Lazzaro la conferenza di servizi è corretto che sia aperta è corretto che le persone cittadini vengano ad assistere e possano vedere quelle che sono le progettualità in riferimento a quell'area importante quale San Lazzaro parliamo parliamo adesso voltiamo decisamente pagina e ci spostiamo a Padova della mostra La Voce e il Miracolo ospitata nello studio teologico della Basilica del Santo la comunità dei frati ha deciso visto il successo di prorogarla fino al primo novembre è il frutto di un percorso interiore di meditazione affetto e conoscenza della figura di Antonio realizzato da 27 artisti con la comunità dei frati la mostra La Voce e il Miracolo ospitata nella sala dello studio teologico della Basilica del Santo e prorogata visto il successo dei visitatori fino al primo novembre con apertura anche il lunedì ideale conclusione del cammino di Antonio 2022 è partito alla fine di giugno da Capo Milazzo con l'esposizione lì di una bellissima croce Boca a me un'opera d'arte di Maria Grazia Toto che è esposta proprio anche qui in questa mostra poi nel frattempo questo lungo cammino ha attraversato l'Italia è risalito piano piano incontrando tantissime comunità cristiane e questa mostra in qualche modo è ancora un eco di quella bellissima esperienza di chiesa e di pellegrinaggio inaugurata domenica 9 ottobre giorno del ritorno a Padova dei pellegrini di Antonio 2022 vissuto in diretta su Rete Veneta la mostra era stata presentata in Basilica nel 2020 definita questa mostra queste opere eccetera veramente hanno continuato a peregrinare perché hanno fatto sei punti importanti nel 2020 a Milazzo a Lauria in Basilicata a Rimini poi a Bologna e poi a Gemona in novembre quest'anno abbiamo avuto questi tre punti che sono stati rieti for lì e oggi è ritornata nella casa madre cioè il santo si può dire così come lo diciamo noi padovani è tornata la fiera del folpo la tradizionale manifestazione autunnale di 90 padovana 500 volontari coinvolti 8 tonnellate di folpi consumati quasi 150.000 visitatori questi i numeri della fiera del folpo 2022 di 90 padovana dopo lo stop legato alla pandemia che l'ha bloccata per tre anni la tradizionale manifestazione si rilancia coinvolgendo padovani e veneti un fine settimana da record che ha richiamato visitatori da tutta la regione arrivati nel paese della cintura padovana anche grazie a un battello con attracco alla storica Villa Giovannelli i nuovi parcheggi aperti in via da Vinci a Noventana e nella zona industriale hanno attenuato i cronici problemi di traffico oggi chiusura della manifestazione con lo spettacolo delle fontane danzanti a partire dalle 22 e a Venezia oramai anche il servizio di traghetto gondola è diventata un'attrazione turistica con lunghe code per i visitatori le calli che sono intasate i mezzi pubblici adesso non soltanto i mezzi i vaporetti ma addirittura anche i traghetti gondola che erano un po' una nicchia di capacità di possibilità di movimento per i veneziani spesso venduto nel pacchetto di sedicenti tour organizzati come un vero e proprio giro il minuto scarso di attraversamento del canal grande da riva a riva del servizio di traghetto gondola in alcune ore della giornata va in tilt e finisce con l'essere difficilmente accessibile proprio ai residenti che non lo usano per divertimento ma per spostamenti necessari che evitino strade intasate o vaporetti sovraffollati se abbiamo nel traghetto gondola turisti tanti turisti col trolley addirittura o comunque che fanno il giro con queste sedicenti guide a quel punto il traghetto gondola non è più un mezzo per attraversare il canale diventa una cosa di venezianità così come il giro dei cicchetti Stefano Croce parla da veneziano e da presidente delle guide turistiche di Venezia che da tempo ha denunciato la situazione caotica che in città è imperversa anche nel suo settore il rapporto tra guide autorizzate e guide fuori legge è di 1 a 5 in questa settimana Venezia sta vivendo un intenso periodo turistico inedito per questo periodo dell'anno nei grandi numeri abbiamo anche il turismo quello che fa piacere a Venezia cioè il turismo quello interessato curioso e poi ci sono anche importanti numeri di quelli che comunque Venezia è vista una città da selfie e questi sono anche quelli che rendono tipicamente le difficoltà della nostra città mesi di festeggiamenti tra Halloween San Martino e Natale a Marghera che non vuole far mancare nulla ai suoi cittadini dopo un'estate ricca di eventi dal Redentore al Festival della Polpetta Marghera continua a offrire novità per i suoi abitanti si parte con un Halloween da paura per grandi e piccini con l'intaglio delle zucche dolcetto scherzetto e la cena di Halloween per proseguire con altre festività fino a quelle natalizie successivamente poi la festa di San Martino con i San Martini donati alle scuole dell'infanzia e con il tradizionale San Martino qui in piazza sempre a Marghera e perché in questa conferenza stampa e poi partiamo sempre il giorno di San Martino con la pista del ghiaccio in prospettiva natalizia che sarà qui dall'11 novembre al 21 febbraio quindi fino alla fine di carnevale tante iniziative pensate anche nell'ambito di quel progetto iniziato da qualche tempo di riqualificazione della città giardino i cittadini si riprendono i centri la Marghera e ovviamente trovano l'occasione di festeggiare di stare insieme perché questo fondamentalmente l'evento l'evento dà sicurezza perché si occupano dei spazi cittadini l'evento fa divertire e è un'occasione di socialità e l'evento è anche un incentivo al commercio finalmente portiamo un po' di luce un po' di movimento a Marghera e speriamo che tutte le famiglie possano uscire fuori negli eventi che facciamo nelle serate di Natale fino a Carnevale e poi ci si preparerà indossare la maschera migliore e sfilare per calli e vie tra coriandoli e stelle filanti la provincia di Vicenza consegnerà la medaglia d'oro alla polizia di stato onori alla polizia di stato la provincia di Vicenza le conferirà la medaglia d'oro il presidente Francesco Rucco ha firmato il decreto e la celebrazione avverrà giovedì 3 novembre con la consegna della medaglia al prefetto Lamberto Giannini capo della polizia la provincia di Vicenza ha deciso di dare un riconoscimento alla polizia di stato in occasione della visita del capo della polizia Giannini nel prossimo 3 novembre è un momento importante per la nostra comunità un riconoscimento a chi tutti i giorni è vicino ai cittadini quindi alla nostra polizia di stato e in particolare il ricordo di due vittime della polizia di stato che sono Giazzon e Fui in effetti quella del 3 novembre sarà una giornata dedicata alla polizia di stato anche a Dueville dove verrà ricordato l'agente Alessandro Fui caduto nell'adempimento del suo dovere e a Creazzo dove il parco in via Molini verrà intitolato alla legalità in memoria di Loris Giazzon l'indimenticato agente deceduto in un conflitto a fuoco il 20 aprile del 1993 ancora adesso vi sono delle persone dei cittadini di Creazzo che quando passano davanti al cippo che ricorda appunto il suo estremo sacrificio dove è avvenuta la sparatoria depongono un fiore ricordando quanto è avvenuto circa 30 anni fa è tutto per questa edizione di Focus TG io ringrazio Alessandro Costacurta dalla regia prima dei saluti però velocissimi i dati Covid 4.772 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore il totale delle persone attualmente positive è di 57.574 in Veneto purtroppo pesante il computo dei decessi 8 morti segnalati dato che il portale testimonia che il numero totale dei decessi è di 15.665 in leggera diminuzione i ricoveri e anche le terapie intensive meno 29 e meno 2 è davvero tutto grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneto appuntamento a domani grazie a tutti